Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi faccio vedere cosa mi porto io durante i miei allenamenti di trail. Vediamo un po' tutta l'attrezzatura, qualche consiglio mio personale, però iniziamo il video così ve ne parlo. Innanzitutto voglio mettere in chiaro di che tipo di allenamento parlo. Io ho la fortuna di vivere al ridosso delle Alpi, quindi posso andare a correre anche a quote molto alte, sfiorando in alcuni casi anche 3000 metri volendo. In punti dove può cambiare molto velocemente il meteo, dove la temperatura può cambiare molto velocemente. E questo zaino è pensato per quel tipo di corsa. Naturalmente se voi correte in zone più collinari, zone più basse, eccetera, magari il vostro zaino sarà meno fornito, con anche indumenti meno pesanti e via dicendo. Ci tengo a fare questa precisazione perché naturalmente poi ognuno andrà a comporre il proprio zaino in base alla propria necessità. Quindi iniziamo subito parlando dello zaino, innanzitutto. Io negli ultimi allenamenti, negli ultimi mesi, sto utilizzando davvero tanto il Camelback Zephyr, di cui ho già fatto la recensione. E lo sto utilizzando perché mi sono trovato davvero tantissimo bene. È dello zaino più traspirante che ho. Quindi andando anche incontro all'estate, con questo zaino mi sto trovando super bene. E la prima cosa che andiamo ad inserire all'interno dello zaino, partendo dagli oggetti che vado ad inserire dietro, quindi quello che di solito uso di meno, la prima cosa che vado ad inserire, che è fondamentale sempre in qualsiasi allenamento di trail, è il mio kit medico. Con dentro il mio kit medico ci porto il telo termico, che questo, vabbè, come sapete è anche indispensabile nelle gare. Vado a mettere dentro poi di solito occhi, tacchipirina, roba simile, perché vabbè, poi io soffro abbastanza di mal di testa, quindi torno sempre utili. Però vanno bene anche se abbiamo qualche calo, se abbiamo qualche dolore. Diciamo che sono sempre utili anche queste. Altra cosa, mi porto delle pastiglie contro la dissenteria, perché non si sa mai dove andiamo a prendere l'acqua, anche in giro, e non vorrei trovarmi a prendere magari dell'acqua un po' stagnante o del genere, e mi fa star male, quindi anche questo può tornare abbastanza utile. Oltre ciò, mi porto, vabbè, dei cerotti, classici, e poi una garza disinfettata nel caso dovessi far male. Va come prima medicazione, ecco. Non porto altro, perché se ci facciamo male, oltre quello che possiamo curare con queste semplici cose, secondo me non ha senso neanche stare tanto a medicarsi, nel senso che lì bisogna proprio chiamare qualcuno, chiedere aiuto, perché dovremmo portare dietro un kit medico proprio intero, se volessimo proprio riuscire a medicarci in ogni caso. Questo secondo me è l'indispensabile, dopodiché bisognerebbe chiedere aiuto. Perciò, kit medico lo vado ad inserire all'interno dello zaino come prima cosa, sempre lo metto dentro come prima cosa, perché va in fondo, nella speranza di non doverlo mai, mai, mai utilizzare, e lo metto nella tasca dietro. Dopodiché, cosa vado a mettere sempre nella tasca dietro? Un paio di guanti, questi qua sono in Gore-Tex, in Gore-Tex Infinitum, e mi ci trovo veramente bene, sono abbastanza caldi, non sono invernali per intenderci, però mi tengono a riparare le mani dall'acqua se dovesse iniziare a piovere, e comunque svolgono sempre la loro funzione di isolarmi in qualsiasi caso un po' anche dal freddo. E anche loro vengono sempre con me, anche perché, dico la verità, sono anche abbastanza leggeri, quindi vengono molto volentieri con me, e anche loro li metto sempre dietro. Terza cosa, gli indumenti. Io non mi porto tanto di indumenti, dico la verità, presupponendo di partire già con, vabbè, una maglietta, i pantaloncini, e le calze, io mi porto un pantalone, di solito a tre quarti, un pochino termico, nel caso dovesse abbastarsi la temperatura, un secondo strato, bello traspirante, magari non così tanto termico, perché comunque, dico la verità, io non soffro tanto il freddo, per fortuna, e anche perché, poi ho anche la giacca impermeabile, quindi, in questo caso, se dovesse per particolarmente freddo, potrei andare a indossare questa. Mi raccomando, importante sempre, ricordatevi di andare a mettere gli indumenti all'interno di una sacca impermeabile o in plastica, questo perché, gli zaini essendo traspiranti, il sudore passa dietro, e quindi, altri indici li troveremo bagnati, quando dovremo andare a utilizzarli. Anche loro finiscono dietro, nella parte posteriore dello zaino. Ultima cosa che vado a inserire dietro, è la torcia. Io questa me la porto sempre, 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 anche se devo fare poche ore, anche se non penso di dover stare fuori fino a tardi, perché non si sa mai cosa può succedere, averla dietro è sempre una buona idea. Non c'è bisogno, in questo caso, magari per gli allenamenti, di avere torce che durano 50 ore, bastano anche torce che magari ne durano 5-6, che proprio ci servono giusto per tornare a casa, tornare alla macchina, nel caso dovesse diventare buio. E anche lei, naturalmente, finisce dietro, perché non sempre la utilizzo. Detto ciò, passiamo alla parte anteriore, che è dove di solito si vanno a mettere gli oggetti che si utilizzano di più. Beh, iniziamo dalle soft flasks, queste sicuramente, io porto sempre almeno un litro, molte volte anche di più mi porto anche due litri, perché dipende un po' dove vado, se so che c'è acqua, se so che non c'è acqua. qui poi lascio a voi la scelta tra soft flask e camelback, vescica, da mettere dietro, cosa preferite. Io dico la verità preferisco le soft flask. Questo poi sta a ognuno di noi. Barrette, quindi cibo. Qui non vi so dare nessun consiglio, perché non sono un nutrizionista, io utilizzo la mia tattica del una barretta barra un gel l'ora, e quindi in questo caso vi dico solamente provate, rivolgetevi a qualcuno che ne sa, vi dico solo portatevelo, perché senza di questo si va sicuramente in crisi, quindi usate la vostra strategia, però ricordatevi sempre di portarlo. E anche questo lo suddivido sul davanti, un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' come mi ci trovo meglio. Altra cosa che porto sempre, fazzoletti, perché questi, come sapete, sono una manda dal cielo e si usano molto spesso, anche in montagna per colpe di freddo, si sa mai cosa può succedere mentre siamo lassù e corriamo. Altra cosa fondamentale, il telefono insieme a dei documenti, ma soprattutto, soprattutto, soldi in contanti. Portatevi sempre dietro un 15-20 euro, perché non è detto che troviate fontane, magari è più probabile che trovate dei rifugi, quindi nei rifugi si può sempre acquistare qualcosa, e molti rifugi non prendono il bancomat, quindi soldi in contanti, e telefono per fare foto, chiamare in caso di emergenza, e comunque anche per le mappe, soprattutto. E quindi questo, anche lui, deve sempre venire con voi, carico, mi raccomando, non fate come me, ogni tanto parto col telefono, un po' scarico, e poi mi danno da solo. Detto ciò, ultime cose, bastoncini, da trail, io continuo a utilizzare i miei gabel, cobra, mi ci trovo veramente bene, vengono sempre con me in ogni allenamento, sono indispensabili, vi fanno risparmiare davvero tante energie, non sottovalutateli, quindi anche loro vengono sempre con me. Occhiali da sole, anche questi, sia d'estate che d'inverno, anche d'inverno per la neve, io ho sempre i miei daemon, con la clip per correggere la miopia, quindi assolutamente sempre, e infine, cappellino, cappellino qua, vabbè, sbizzarritevi, ce ne sono tantissimi, di tantissimi colori, quello che vi piace di più. Infine, una cosa che, quella porto sempre al polso, l'orologio. Io l'orologio lo porto sempre quando faccio trail, soprattutto in questo caso avendo il Fenix 7X, perché è cartografico, ho le mappe anche, posso mettermi sopra il percorso, ma è molto importante portare un orologio anche per sapersi orientare, anche per sapere che ore sono, perché dobbiamo capire quanto tempo ci abbiamo messo a fare in un tratto di percorso e quanto tempo ci rimane, magari prima del buio. Dobbiamo essere in grado di dire ok, oggi sono andato un pochino più lento, quindi magari accorci un pochino per evitare di tornare a casa col buio. Quindi saper giostrare anche il tempo in base a come stiamo, a quanti chilometri abbiamo fatto e quanti chilometri dobbiamo ancora fare. Un orologio è sempre indispensabile. Perciò ragazzi, questo è quello che mi porto io in ogni mio singolo allenamento di trail. Come vi dicevo all'inizio, poi dipende un po' dove andate a fare i trail, le temperature, se è estate, se è inverno. Naturalmente bisogna un po' cambiare cosa ci portiamo dietro, soprattutto gli indumenti. Però mi raccomando, ci sono delle cose fondamentali, come può essere il kit medico, l'acqua, il cibo e via dicendo, che quelle non possono mai, mai mancare. Da tutto ciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!